Allora, passiamo alla votazione del punto numero uno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Si astiene? Vediamo, il punto è approvato. Mettiamo la votazione dell'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Si apreste il contrario, ok? Chi si astiene? Il punto è approvato. Passiamo alla votazione del punto numero due. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il punto è approvato. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Chi è favorevole? Allora, mettiamo in votazione il punto numero tre. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, sono le ore. 22 e 56. Dichiaro sciolta la seduta. Buonasera a tutti. a tutti. Buonasera a tutti. Grazie.